Molti investitori retail non considerano utile affidarsi ad un consulente finanziario e la consulenza formato MIFID è ancora destinata a un numero ridotto di famiglie. Il ruolo della distribuzione è sempre più centrale ed è per questo che il Salone del Risparmio si interroga sulle sue evoluzioni valorizzando anche le competenze degli operatori con momenti di formazione certificata. Scopri tutte le conferenze del percorso P5 dedicato alla consulenza finanziaria e alla distribuzione.